Per dare un titolo a questo incontro potremmo chiamarlo Non tutti sanno che, perché partiamo dalle cose che si conoscono e cerchiamo di approfondirle e di vederle più da vicino. Cominciamo con la manna. Quando si parla di manna viene in mente subito quella del deserto degli ebrei che si trova nelle sacre scritture. Quella è prodotta da un arbusto, una tamerice che vive nel deserto. Questa tamerice se ha la corteccia lesionata, per esempio, dalle cavallette, butta fuori e emana un liquido che poi si asciuga e diventa un qualche cosa di zucchero. Questo è un arbusto proprio di tamerice del deserto. L'ho segato io proprio nel deserto del Sinai, nel deserto di cui parla la Bibbia. Ma quando si parla di manna quella che si trova abbastanza con una certa facilità in commercio è prodotta da un frassino, il frassino da manna. Il frassino da manna vive anche qua da noi, ma la manna la produce esclusivamente in una zona della Sicilia che dispone di un terreno, di un ambiente molto secco e di una temperatura molto alta. Questa manna è un qualche cosa che esce dalla corteccia e viene raccolta con un filo e produce i cannoli di manna. Questi sono i cannoli siciliani. Questi sono altri cannoli prodotti in un altro posto molto vicino, ma sempre in Sicilia. Questa è la manna che viene raccolta sempre dalla stessa pianta ma su una pala di fico d'India e vedete che ha una conformazione diversa. La sostanza però è sempre uguale. Questo filmato che vedrete adesso è stato programmato, è stato messo in onda dalla Rai e io ho ritenuto opportuno conservarlo e adesso lo vedete. Nome in codice, cibo degli angeli, miele di ruggiada, polvere di stelle, nella realtà semplicemente manna che non viene per nulla dal cielo ma è la linfa che esce dall'incisione della corteccia del frassino trapiantato in terre aride come questa in Sicilia. In seguito a uno stress idrico dovuto alle condizioni climatiche e le alte temperature estive facilitano la possibilità per la fuoriuscita della manna. Le gocce una volta fuoriuscite si solidificano in lunghi bastoni attaccati agli alberi, cannoli come li chiamano i raccoglitori dalle incredibili proprietà. Un dolcificante naturale che può assumere il diabetico perché contiene bassissime concentrazioni di glucosio e anche un decongestionante del fegato e un ammorbidente rinfrescante cicatrizzante della pelle. Una novità? Niente affatto, informazioni queste risapute fin dal 1500 che nel 900 diventano un business. Ha rappresentato per i contadini siciliani, soprattutto all'inizio del 900, la più grossa quota di reddito che produceva l'agricoltura. Poi il declino, l'industria farmaceutica principale acquirente scopre il surrogato chimico, la manna quasi scompare negli anni 60 e 80, i produttori da 1000 restano in 200 e tutti qui in questo fazzoletto l'autoritaria siciliana tra Pollina e Castelbuono nel parco delle Madonie. Tutta la manna dal mondo viene da qui. Mario e Giuseppe scommettono sui cannoli di linfa e vincono. E questo è un prodotto che arriva a costare fino a oltre i 200 euro al chilo. I nuovi clienti sono le industrie di cosmetici, gli chef e i pasticceri. Davanti a Panettone e Torroni Doc facciamo caso all'etichetta. Questa manna è un prodotto veramente efficace per la salute perché addirittura si dice che lo possono adoperare anche i diabetici perché il contenuto di zucchero vero e proprio è molto poco. tiene in ordine l'organismo e anche l'intestino stesso è nutriente, digeribile, è una vera manna. La manna si ricava anche da altre piante però tutte hanno lo stesso procedimento che deve essere incisa la corteccia e poi la pianta butta fuori, la emana. Emanare deriva proprio da manna. Questo è il frassino, il legno del frassino da manna, quello che c'è qua da noi ma che è perfettamente uguale a quello che produce la manna in Sicilia. Arriviamo al liquidambar. I liquidambar tutti sanno che è una pianta ornamentale e si coltiva nei giardini soprattutto per quel colore strano, eccezionale, variegato che assumono le foglie in autunno. Si chiama liquidambar stiraciflua, questo è il nome scientifico. Perché? Perché inciso la corteccia lascia uscire un liquido che è l'ambra liquida. Nel primo momento si sa cosa sia l'ambra liquida. L'ambra liquida è quel prodotto che le donne si mettono sull'ambra solare e che si mettono sulla pelle quando sono in spiaggia. Ecco perché si chiama liquidambar. Quando si è asciugato questo liquido lascia una parte molto più dura che è lo storace, ecco perché si chiama stiraciflua. Questo storace serve in profumeria, serve per altri usi anche in medicina. In America lo chiamano sap gum, cioè sap vuol dire linfa e gum vuol dire gomma. Noi in Italia lo chiamiamo noccino d'America. Il legno è un legno caratteristico perché ha delle striature più scure dovute proprio ai vasi gommiferi che ci sono anche dentro al legno. Il sicomoro. Delle volte capita di essere in un giardino e chiedere che pianta è quella là e ci viene risposto è un sicomoro. Nessuno ribatte niente perché nessuno sa cosa sia il sicomoro. Allora vediamolo un po' da vicino. Non bisogna dimenticare che il sicomoro è un fico, un fico che fa i fichi. Non sono buoni come quelli che siamo abituati a mangiare noi ma si possono mangiare anche quelli del sicomoro. E anche qua ti viene in mente la Bibbia perché Zaccheo era salito su un sicomoro per poter vedere Gesù. Gesù poi gli ha detto domani vengo a casa tua via di salito. A Gerico proprio in quel punto là c'è un albero che secondo loro dovrebbe essere un sicomoro. e è questo. Come vedete non è un fico ma è un platano, un enorme platano e Zaccheo non avrebbe potuto salire su dato che era piccolo. Se era un fico si sarebbe potuto salire sopra ma su un platano no. Perché questo errore? E' presto detto in inglese il platano lo chiamano sicamore e da la hanno preso e sono inciampati e hanno messo questo platano che oggi è enorme proprio nel posto dove Zaccheo sarebbe salito per vedere. Gesù. Dicono che con il sicomoro facessero le bare dei faraoni. Perché? Perché avendo un legno molto amaro era un dissuasore per l'attacco degli insetti. probabilmente è anche perché in Egitto non potevano scegliere tanto, non hanno boschi, non hanno foreste e quindi dovevano farle con quel legno che trovavano. Il fatto che gli egiziani, gli egizi anzi non avessero foreste non hanno potuto fare navi e non hanno potuto portare, diffondere la loro enorme civiltà proprio perché erano senza legno. come invece hanno potuto fare i fenici, i greci e i romani. Nella bandiera del Canada, se avete mai osservato, c'è una foglia a cinque punte. è la foglia dell'acero da zucchero, acer saccarum. E' qua, della parte proprio del Quebec, della parte della costa atlantica, che questo acero prospera e viene utilizzata la sua linfa per ricavare questo siroppo d'acero. Per raccogliere questo siroppo d'acero si inserisce una specie di rubinetto e da questo rubinetto sotto c'è un contenitore e si raccoglie questa linfa che scende, poi viene molto molto asciugata, molto ristretta e quello è il balsamo del Canada. Allora, questo è il balsamo del Canada, proprio originale, vedete che la bottiglia è fatta come una foglia d'acero, questa è la foglia d'acero del Canada, la foglia dell'acer saccarum. Questo è il legno dell'acero del Canada che poi, questo è l'acero nostro, vedete che è praticamente uguale, come il legno non differisce tanto dall'acero del Canada, dall'acero nostro. E allora, questo dato ti presento l'acero, allora intanto bisogna considerare che qui appunto, di ripeto, c'è la neve alta, allora con il trapano, Così diventa proprio espertissimo. Sì, sì, oramai lo produco io, lascio. Viene forato il tronco. Sì. Eccolo qui, lo vediamo qui davanti. Magari lo facciamo fare, facciamo vedere come si fa? Sì, certo. Faglielo fare. Allora, abbiamo qui Pierre. Pierre. Allora, perciò non potrei fare le trucche. Ok, però in questo caso ovviamente la linfa non c'è. Oggi no, certamente no, ripeto, la linfa viene fatta, viene prodotta dall'albero tra marzo e aprile. Ok, quindi viene fatto un buco, poi dopo viene messo… Viene fatto un buco, dopodiché c'è il secchiello, come vedete, il tubicino. Sì. Il buco. Si mette all'interno e poi… Esattamente. Eccolo qui. Ma quanta linfa… Non so. Vedete, da quella parte il buco. Ah, c'è da quella parte? Esattamente. Ok. Viene inserita la corteccia. Eccolo qui. Benissimo. Ok, poi abbiamo messo il secchio sotto. Certamente. Ah, direttamente così. Esattamente. E poi… Viene coperto per evitare… Esattamente, per evitare che la neve cade dentro la linfa. Ecco, ma quanta linfa riesce a dare un albero? Normalmente varia molto dalla stagione, dipende dalla temperatura, ma diciamo 60 litri a stagione. E per avere, per formare un litro di sciroppo d'acero, bisogna bollire 40 litri di linfa. Cioè 40 litri di linfa ti danno un litro di sciroppo d'acero? Esattamente. Esattamente, sì. E per riempire questo secchio quanto ci vuole? Ripeto, normalmente dipende sempre dalla stagione, anche una settimana. Anche una settimana? Sì, perché scende le gocce. Esattamente. Il Canadà ha anche un altro prodotto esclusivo. E' il balsamo del Canadà, ricavato da una pianta che si chiama abies balsamea, cioè abete da balsamo. Come legno assomiglia molto al nostro abete bianco e produce questa, la corteccia produce questa resina che serve per fissare sul vetrino il campione da esaminare al microscopio. Questo è il vetrino, ecco il balsamo del Canadà, si mette sul vetrino, si appoggia sopra il campioncino da esaminare al microscopio e poi si copre con il solito vetrino. Sottilissimo. Questo si asciuga in pochissimo tempo e il balsamo del Canadà è perfettamente in colore e quindi si può esaminare il pezzetto con tutta, il microscopio con tutta facilità. E il faggio? Quando si parla di faggio viene subito in mente il faggio da reme per i veneziani, ma il faggio è una pianta che dà un legno molto versatile che serve per fare gli zoccoli, gli scatoli per le forme di formaggio, che serve per fare le sedie a sdrai o le sponde di cassetti, è un legno con cui si possono fare tante cose. Non tutti sanno però che il faggio dà anche un frutto, una piccola castagna. Questa è in grandezza naturale, la vedete questa qua, è una castagna che volendo si può mangiare anche cruda come le castagne nostre. Il faggio ogni 5, 7, 10 anni ha una produzione di frutti enorme che è detta pasciona. Nel Cansiglio, essendo pieno di faggi, questa era una risorsa non indifferente perché essendo buona da mangiare e veramente nutriente, la raccoglievano e se ne sassiavano tutti, non solo gli animali della foresta del Cansiglio, cioè i ghiri, i scoiattoli e via di senso, ma gli abitanti, i cimbri del Cansiglio, la raccoglievano anche per ingrassare i maiali, ma anche proprio per cibarsene loro. Questa passiona era una cosa che dava modo ai cimbri di avere una quantità disponibile anche per spremerla e produrre l'olio. L'olio prodotto da questo frutto, soltanto il 15% poteva servire per condire, il resto serviva per illuminazione, il lumino a olio. D'altra parte, la parola faggio deriva dal greco fago, che vuol dire mangio, da cui fagocitare, fagociti, antropofago e via di seguito. Con la passiona si saziavano in tanti, si saziavano veramente e da passiona deriva anche il nostro termine dialettale pasciudi. C'è una pianta che chiamiamo Venk e che serve, serviva meglio, per legare le viti, essendo che produce dei rametti molto molto flessibili e che si possono veramente piegare come si vuole. Il suo nome scientifico è Salix viminalis. Da questo si capisce perché uno dei sette colli di Roma, essendo Roma primordiale, essendo molto ricco di queste piante, è chiamato anche oggi il viminale, dove c'è il ministero dell'interno. Essendo molto flessibile, si potevano fare cesti, ecco perché si chiama cesto di vimini, del Salix viminalis. Il nome italiano è vinco, da cui deriva vincolare, vincolo e via di seguito. È una pianta che, quando diventa grossa, si può adoperare il fusto anche come un bastone, ma non un bastone per bastonare, un bastone che è diventato, l'incastro è diventato un termine ecclesiale, che indica un bastone che serve per tenere in ordine il gregge delle pecore. C'è un'altra cosa da tener conto, che questo Salice contiene anche un principio attivo con cui si fa l'aspirina, cioè l'acido acetilsalicilico. Ecco perché è una pianta eccezionale e da ricordare. Questo è il Quassio. Il Quassio è una pianta che ha un legno amaro. È noto nel mondo come bitterwood. E' un arbusto, questi sono dei piccoli fusti di Quassio, che in commercio si trovano soltanto ridotti in scaglie. Eccoli qua. Questi sono ridotti in scaglie per metterli nell'acqua, rilassano tutti gli estrattivi nell'acqua e quell'acqua la diventa un insetticida molto efficace e biologico. È un arbusto, come dico, che difficilmente arriva a 10 cm di diametro, ma è interessante soltanto come insetticida, è usato come insetticida. Il legno santo. Il legno santo è chiamato così perché, essendo considerato il legno più pesante del mondo, si pensava che fosse stato usato per la croce, il che è assolutamente impossibile perché è un legno brasiliano. Colombo è arrivato 1500 anni dopo. Però il nome di legno santo è rimasto. E' questo un legno che, essendo molto pesante, una volta veniva usato per fare le bocce, per fare le bocce con cui giocare. Hollywood. Hollywood viene da pensare che voglia dire legno santo, Hollywood. No, assolutamente no, perché holly ha due L, Hollywood, e vuol dire bosco di agrifoglio. Quindi la mecca del cinema non c'entra niente con il legno santo, ma c'entra perché sulle colline di Sosalido c'era un bosco di agrifoglio. Il nostro agrifoglio assomiglia veramente a quello dell'Holly. Questo è il nostro e questo è l'Holly, quello americano. è uguale come densità, come durezza, anche come colore. Vedete che si differenzia ben poco. Perché nonostante il percorso evolutivo diverso avuto da un legno che è stato per 200 milioni di anni staccato dall'Europa, e il percorso evolutivo è cambiato ben poco. Il capoc. Il capoc, come si sa, è un prodotto di una pianta tropicale sempre e è chiamato anche lana vegetale. Perché lana vegetale? Perché il prodotto di quella pianta è una lanugine che viene usata per fare materassi, coperte, cuscini, eccetera. È una pianta un po' strana. Questo è proprio il frutto del capoc che ho raccolto io nella giungla indiana. Il legno pietrificato. Fermiamoci un attimo su questa stranezza della natura. È meglio chiamarlo legno fossile o legno silicizzato. Questo fenomeno avviene molto, ma molto raramente. Perché possa effettuarsi questo strano mutamento nel legno, ci vogliono delle condizioni particolari. Intanto il bosco deve essere stato distrutto, di solito da un'alluvione, e gli alberi vengono sommersi da una melma ricchissima di acqua. Essendo sommerso dall'acqua, il legno non può amarcire, non può spaccarsi, non può essere attaccato dagli insetti e rimane là. L'acqua contiene una piccolissima quantità di silicio che pian piano col tempo riesce a insinuarsi dentro il legno e deposita all'interno della parete cellulare questo silicio. L'acqua poi continua a cambiare, porta dentro altro silicio, altro silicio, finché riesce a riempire totalmente la parete cellulare. Trascorso questo periodo, è in azione dei bacteri che vivono senza aria. Quindi sono bacteri che hanno un'azione lentissima, ma con il tempo, con tanti milioni di anni, riescono a demolire completamente tutta la parete cellulare e al posto suo l'acqua porta dentro il silicio e ottula tutti questi spazi che rimangono. In altre manie, in altre parole, il legno non è più un composto del carbonio, ma è diventato silicio. Per fare un esempio banale, è come un autobus che durante il percorso ogni fermata i viaggiatori scendono e altri salgono. Ogni fermata, altri scendono e altri salgono. Quando è in fondo, l'autobus è ancora quello e il contenuto assolutamente non è più quello. Il discorso è banale, ma faccio per spiegare il mio pensiero. Quanto tempo ci vuole perché succeda questo? Tantissimo tempo. Qua ho portato diversi campioni di legno silicizzato. Questi più belli sono del Triassico. Il Triassico sono 200 milioni di anni fa, per capirci quando la zolla americana ha cominciato a staccarsi dall'Africa. Ma ci sono anche dei legni che danno delle sorprese non indifferenti. Questo mi è stato portato da un mio amico dal deserto del Sahara. Ma come direte? Dal deserto del Sahara? Sì, dal deserto del Sahara, perché il Sahara non era un deserto, era una foresta lussureggiante. Questo poi non è neanche tanto vecchio. È un pezzo che è considerato del Preistocene, per grosso modo un milione di anni. Quelli invece dell'Arizona, questo, questo, quello, sono legni che, come dico, hanno 200 milioni di anni. Questo è un pezzo di legno della Sardegna e è del Neocene. Questo è un fossile del Cansiglio e questo probabilmente è un fungo, sempre del Cansiglio, ma sempre, sempre un fungo fossilizzato. Quindi il legno, arrivati a questo punto, non ha più niente di carbonio, è diventato pietra, è diventato silice. Fossilizzati, arriviamo all'Ambra. L'Ambra è una resina fossile. È una resina fossile che, più che altro, si trova facilmente nella zona del Baltico, nelle sponde, naturalmente, del Baltico. Questa è una goccia d'Ambra eccezionale. eccezionale perché contiene ben sette insetti. L'Ambra, che ha un insetto dentro, è pregiata. Bene, questa ne contiene sette. Questa è un'Ambra del Madagascar. Questa ha intorno a 10 milioni di anni, questa ha un solo milione di anni, però ha dentro un insetto, anche questo, è un insetto, chiaramente, del Madagascar, che qua da noi non c'è. Tutti hanno sentito parlare della camera d'Ambra. La camera d'Ambra era una cosa eccezionale, che è stato un dono, che è stato fatto dal re di Prussia, Federico Guglielmo, a Caterina II, perché è stato portato nel palazzo d'inverno di San Pietroburgo. Questa è tutta la descrizione di questa meravigliosa camera d'Ambra, che i nazisti hanno smontato, portato via, e nessuno ha più saputo dove è finita. Però i russi sono stati bravi, agevolati dalle fotografie, e sono riusciti a ricostruirla, a ricostruirla come era, quantomeno come era prima, fatta con sei tonnellate di ambra. Il lavoro è stato di 20 tecnici per 20 anni, ma sono riusciti a riportare alla meraviglia questa camera d'Ambra, che è considerata, così si può dire, l'ottava meraviglia del mondo. Il lagremo, parlando ancora di resina, noi qua abbiamo l'abitudine, i nostri vecchi più di noi, di conservare, di raccogliere la resina dell'arice, la resina che scorre, non la resina secca. Il lagremo è proprio la lacrima dell'arice. Questo non è un vaso di miele, ma è un vaso di un'eccezionale qualità di resina dell'arice. Cosa serve la resina dell'arice? Serve come medicamento, e soprattutto per la pelle, perché serve a curare la pelle per qualsiasi, dalle scottature, alle lesioni, dai dolori in avanti. e serve anche per far uscire le schegge, le risce, dalla pelle. Ecco, la resina dell'arice è fatta di tante sostanze, ma due in particolare, la trementina e la pece. La trementina è quello che dà quel profumo straordinario alla lacrima dell'arice e quando evapora resta la pece. Facciamo un passo indietro e torniamo all'ambra. Per sapere se quella che comprate è ambra, basta scaldare, arroventare uno spillo, appoggiarlo su, se il profumo che ne esce è quello della resina, quella è ambra. Ecco qualche curiosità che ho cercato di portarvi. Spero e mi auguro di poter portarvi ancora qualche curiosità nelle prossime volte che ci incontriamo. Un saluto da Angelo. Grazie a tutti.